In uno spenserato villaggio della Contea, l'hobbit Frodo Baggins si vede affidare dal mago Gandalf un misterioso anello dotato di oscuri poteri. Il male si sta scuotendo a Mordor. L'anello si è svegliato. Ha sentito il richiamo del suo padrone. Ma è stato annientato. Sauron è stato annientato. È un lavoro di amico per tutti noi. Abbiamo amato questi personaggi. Abbiamo amato l'arrivo che prendono. Abbiamo amato i punti che fa sull'esistenza umana. Frodo intraprenderà un'epica avventura per eliminare l'anello e fermare l'avanzata del malvagio Sauron. Al suo fianco, indomiti guerrieri e strane creature magiche uniranno le forze nella lotta contro il male. La spettacolarità della Compagnia dell'Anello trova la sua massima espressione nella creazione della Terra di Mezzo, che prende vita grazie a magnifici scenari naturali e al sapiente uso degli effetti visivi. È un mondo incredibile in cui puoi lasciare si perdere. Poi puoi perdere te stesso in questa bellissima giornata. A dirigere il film troviamo Peter Jackson, che valorizza la storia con una regia visionaria e un sapiente uso degli effetti speciali, restituendo la magia creata da Tolkien. Con una regia visionaria visual effects that really have only come about in the last seven right years we are now able to show the sort of images that talking described on screen primo atto dell'adattamento coraggioso di un classico della letteratura la compagnia dell'anello e l'apripista di una trilogia che ha cambiato la storia del cinema